Questo sport secondo me è molto importante per i bambini in età scuola elementare e anche prescolare in quanto dà la base per tutte le abilità motorie. A questa età anche per il numero e le ore delle sedute e degli allenamenti incide più a livello caratteriale che a livello fisico. Abbiamo dei bambini che quando iniziano il corso di atletica magari sono timidi e all'inizio non riescono neanche ad inserirsi bene nei giochi che facciamo mentre dopo un paio di mesi vediamo che sono quasi capitani delle varie squadre durante i giochi. La socializzazione diciamo che è il valore a cui teniamo di più. Divertimento, passione ed entusiasmo sicuramente. Divertimento perché l'atletica ci insegna a stare insieme, a divertirsi dopo i momenti duri dell'allenamento, cioè il momento della competizione che è un vero divertimento. Passione perché è uno di quegli sport che devono essere vissuti con una passione quasi maniacale perché richiede talmente tanto in termini di energia, di impegno che ci vuole veramente il sacro fuoco dentro. E poi sicuramente anche entusiasmo, entusiasmo appunto perché per superare momenti difficili e duri dell'allenamento bisogna essere ben convinti di avere un fortissimo entusiasmo che ci porta avanti.